La gita scolastica costa troppo. Per questo partecipa solo un terzo degli studenti su oltre 600. 1.500 euro per una settimana a Londra sono troppi, secondo i genitori dei ragazzi che frequentano l'Istituto Nuti di Fano. La scuola del resto risente dell'inflazione e del generale aumento dei costi. Dobbiamo dire che questi costi sono comprensivi di tutto. Abbiamo organizzato l'attività nel college, quindi non in famiglia. Come scuola per individuare le opportunità migliori abbiamo proceduto con un bando a livello nazionale proprio per cercare un'offerta che poteva rispondere alle esigenze formative dei ragazzi ma al tempo stesso calibrare l'offerta in maniera il più possibile adeguata anche ai costi correnti. La dirigente lo specifica. Non si tratta di una vacanza ma di un viaggio studio inserito all'interno di una programmazione più ampia per cui vengono predisposte varie attività. Queste attività comprendono sicuramente delle uscite nel territorio, delle iniziative in collaborazione anche con esperti esterni e dei laboratori anche che coinvolgono ad esempio le discipline scientifiche o STEM. Quindi sono tutte attività che vengono svolte per classi aperte. I ragazzi che rimangono a scuola, replica la dirigente, non vengono lasciati soli e anzi la scuola ha elaborato una programmazione specifica per loro. Hanno la possibilità appunto di vivere la scuola in maniera diversa, in maniera anche più collaborativa, cooperativa anche condividendo esperienze con alunni di altre classi. Credo che sia comunque un progetto che va visto nella sua complessità ma nella sua anche ampiezza.